La città ha reagito con solidarietà, convinzione e lo stesso ha fatto il Comune. Con l'entusiasmo che ci contraddistingue, quest'anno porteremo avanti alcuni desideri tra il possibile e l'impossibile. Il primo è diventare capitale italiana della cultura per il 2022, lo sapremo a metà gennaio. Una tappa di arrivo del Giro d'Italia per onorare pienamente un campione come Filippo Ganna e anche tutto il mondo sportivo e la possibilità di entrare nel Parco Nazionale Valgrande, un progetto che va avanti da decenni. Abbiamo ottenuto rilevanti finanziamenti che avranno gli effetti nel prossimo futuro di Verbagna, quindi non nell'immediato. Essere una città pilota a livello nazionale con un finanziamento di mezzo milione di euro, altrettanti soldi per il recupero di Palazzo Cioia e a tutti i bandi nazionali che stanno uscendo, con le risorse messe a disposizione, noi partecipiamo portando avanti i progetti che riguardano la ciclabile in città, un miglioramento della qualità urbana, la parte viabilistica e la vocazione turistica. Mai come quest'anno però il Comune è dovuto essere presente in ambito sociale? La cifra è significativa ma non servirebbe probabilmente a dare l'idea che ha visto due bandi aperti per le piccole attività in sofferenza, parliamo di probabilmente 200 piccoli negozi che rischiano in città che avranno un forte sostegno al Comune come è già avvenuto in estate. E poi le famiglie, ancora nell'ultima variazione sono stati messi 160 mila euro per sostenere il pagamento di affitti e bollette. E senza quel meraviglioso luogo che è l'Emporio Legami non saremmo riusciti a far fronte a tutte le richieste. È subentrata al Presidente di Missionario ricoprendo il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale Vicario. Come sono andati questi primi mesi? Questi due mesi sono andati bene nel senso che devo davvero ringraziare il Consiglio per il comportamento che ha durante le sedute. pur con le difficoltà di queste ultime tre sedute, il Consiglio è l'espressione della città, vuol dire che c'è una forte componente comunque di educazione democratica.